Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di essere nuovi Lasciate la hashtag JurassicWorldGame qua sotto nei menti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Allora giustamente devo riattivare un pochino di robina Perché come sapete non ho giocato tantissimo a Jurassic World Game questi giorni Perché ho tantissimi altri giochi da portare avanti Quindi questo che è quello che già sta più carico Non vado avanti di corsa Raccogliamo i punti misteriosi Vai, la robina 10, no, 15 punti monolofosauro Interesting Speriamo che non mi crash ragazzi Perché io odio ormai i crash di questo gioco Ok, non prendiamo la bustina misteriosa con le pubblicità Adesso non ci interessa Andiamo a vedere se c'è qualche missione da andare a fare Ok, abbiamo il boss da andare a fare Vediamo che altro c'è Allora, andiamo avanti proprio le missioni storia Perché se no non ci andiamo più Mi chiede posizione una creatura acquatica che si è appena schiusa Quindi, prima di tutto Mi va dalle vari dinosauri che abbiamo messo l'altra volta a fare Che finalmente sono pronti Eccoli qua Allora, il nostro bellissimo ceratosauro Posizioniamolo che l'andremo a potenziare alla grande Mi sono messo tutti i ceratosauri Belli carichi Vai così Ale E stariamo di tutti e poi ci pensiamo Ho fatto pure per sbagliare un T-Rex Oppure ce l'avevo nel deposito Vediamo un po' Fatemi controllare che cos'è questo Forse è il T-Rex Gen 2 Lo stavo facendo per continuare L'Indominus Rex Gen 2 Probabile Allora, che poi è il primo Di T-Rex Gen 2 che metto, mi sa Quindi neanche me lo sbloccherà Per trovarlo dovrò per forza prendere punticini a zonzo C'è un po' di lag Tattica mi sembra nel gioco Da come mai Allora, se faccio più penso che non me lo darà Me lo dà nel negozio o no Invece me lo dà 3.750 Perché l'abbiamo sbloccato l'altra volta Quindi oserei esagerare Visto che Se non erro il coso l'abbiamo sbloccato Ne metto a fare uno Nessun problema E andiamo da quello che stavamo vedendo prima Il ceratosauro Cerchiamo di maxarlo il più possibile Me ne manca uno, mi sa Ok, missione completare di qualche tipo Non so quale sia Poi controllerò Allora, evolvi Vai La nostra esosità continua Come sempre Ceratosauro Lo dobbiamo far diventare potente Perché mi sa che mi serve per qualche ibrido Mi sa che lo stavo facendo per qualche ibrido Non vorrei dire Sì, mi sa di sì Ok, evolvi Mannaggia Owen Quanto non sopporto Owen Non ve lo dico mai, vero? Ve lo dico di continuo Ok Andiamo a levarci sto codice 19 Owen Perfetto Che mi sposta sempre dalla situazione dove mi trovo Quindi mi dà ancora più fastidio E penso che stavo facendo questo ceratosauro per fare ibrido nuovo Perché io il terizinosauro ce l'ho E mi serviva il ceratosauro per fare il cerazinosauro Eccolo qui Che a livello 40 è molto, molto, molto importante Ok Allora Intanto così è un 2340 394 Quanto dovrebbe essere utile in qualche battaglia Ma ne devo mettere a fare qualcun altro Quanto mi costano sti cosi? 6500 di DNA Ne metto a fare un altro Dovrebbe bastare per ora E devo trovare in modo di formare un po' di DNA Allora Intanto Missione fatta Non so quale sia Non me la dà Eccola Forse quella del DNA Che sono importanti Grazie Niente male Poi ottieni Sicuramente roba giornaliera Da qui Nel pass Tra 5 giorni ragazzi Scade il pass Questa armatura splendente Quindi probabilmente ci saranno aggiornamenti A giorni Molto probabile Allora Adesso Dobbiamo mettere a fare Un qualsiasi acquatico Giusto? Perché la missione mi richiede Un acquatico Quella della storia Posiziona una creatura acquatica Che si è appena schiusa Benissimo Quindi andiamola a mettere a fare E' un po' Una creatura acquatica Ok Comunque il mercato dell'ambra Era qua sotto Grazie di avermelo detto Nel video precedente Non me ne ero accorto Ce n'ho ben 38.000 Quindi potrei pure fare Qualcosina di Interesting Se magari ci manca qualcosa Oppure mi ritengo da parte Speriamo di prendere Qualche leggendario interessante Ditemi In questo mercato Cosa mi converrebbe Andare ad acquistare Perché mi sembrano tutte robine Abbastanza piccole Allora Ero lì per fare una cosa E invece non l'ho fatta Bravo Mordug Proseguiamo allora Rifacciamolo Ok Missione Si va Ottieni Giustamente ci serve Il dino acquatico Quindi andiamo nella specifica Acquatici Dove stanno piccati Acquatici Eccoli qua Perfetto Quindi posso prendere So un elicoprione Anzi Forse no Che è un po' Troppo raro E vabbè però Faccio io i problemi Che sono scarso Come sempre Acquatiche E vediamo un po' Se abbiamo roba Un po' più normale Però mi sembra che c'ho il minimo rarissimo Ok Queste probabilmente Sono quelle acquistabili O col dna Allora facciamo così Dai Elicoprione E lo acceleriamo Ok Raccogli Posizioniamo l'acquatico Così andiamo avanti nella storia Se non crasha Ok Elicoprione Ce l'abbiamo Posiziona Fine missione Benissimo Andiamo avanti un po' Con la storia Dai Tanto esperienza gratis Per l'elicoprione Ho lo stomaco Sotto sopra E da quando Quei velociraptor Ci hanno inseguito Che non metto niente Sotto i denti Vediamo di rimediare Ma c'è qualcosa Da mangiare qui nei paraggi Se lo sapessimo dove cercare In effetti Metti 50 decorazioni Possiedi 4 conservazioni giungla Ok Conservazioni giungla Sono quelle potenziamento Le potremmo andare a mettere Appoggiate intanto Qui su Isola Sorna Ok Uno Ok queste crescono immediatamente Quindi basta fare In questa maniera Molto semplice Perfetto Me ne metto 4 qui Anche se non mi servono Benissimo Dove era la missione Eccoci qui Vai E mettiamo l'ultima Perché mi sa che una Già ce l'avevo a Zonzo Per le nostre isole Fine missione Va bene Così Ma che diamine è Sembra schifoso Ho una tale fame Che mangiare qualsiasi cosa E' dolce Che cos'è La gente del posto Lo chiama Guanabana E' un frutto Che cresce sull'isola Addirittura Sono contenta che Grae abbia qualcosa Da mangiare Utile averti con noi Owen Aspettare e assaggiare La mia cucina Proposte di cucina Allora intanto Qua io ho messo ad allargare L'ultima volta Che abbiamo fatto Il video Livello 80 Livello battaglia 80 Sbloccato Casomai ce l'andiamo a fare Dopo Sembra se ci riusciamo Mari ci da il premio Il nuovo dinosauro Ok no grazie 10 euro e 60 Non ci spendo E vai con le espansioni E vai pure con Altro livello up Quasi Allora metterei Ad allargare ancora Tanto ce le abbiamo Allarghiamo Così Quando abbiamo allargato tutto Farò un bel episodio Ok qui c'era un'altra exp Che mi ero perso Livello 82 Quindi sblocchiamo anche Il livello 82 Niente male Almeno che non era l'ultimo L'81 Non ne sono sicuro Crash Era durata pure troppo La faccenda te pare Che non c'era un crash E così Allora Proseguiamo Davanti a noi Si estende una fitta giungla Andrò in avanza scoperta Con la squadra Torneremo presto Ok Grey tu vai a giocare un po' Ma resta nei paraggi Non voglio perderti vista Vai quanto a te Zack Voglio parlarti Da solo Perfetto E' tutta colpa di Zack Abbiamo un pacchetto di carte E qui ci siamo L'abbiamo fatto Posiziona una creatura Cenozoica Che si è appena schiusa Quindi devo mettere Un cenozoico Immediatamente A schiudere Sperando che ce n'ho Uno piccolino Ok I miei più piccoli Che ho depositati Sono rarissimi Va bene E quindi Addio Dino dollari Raccogliamo Vai così Ecco L'anficione Lo posizioniamo Missione completata Raccogliamo Zack Cosa c'è che non va E' tutto il giorno Che mi tieni il muso Ricorda che sono Dalla tua parte Io e Grey Non ci possiamo cacciare Nei guai Non ti saresti nemmeno Accorta della nostra Esistenza E' vero Effettivamente Lei ha fatto così Anche nel film Quindi proprio Non si ricalcola Se avrei dovuto trovare Un po' di tempo per voi Nonostante gli impegni Mi dispiace molto Va bene Oh ecco se scusa Non puoi scusarti E fingere di recuperare Il tempo perduto La mamma ci ha scaricato qui Perché non fai lo stesso Anche tu Azz Cattiveria Ok Si prosegue con la storia Sto esaminando Uno dei nuovi arrivi Di Jurassic World Ho scoperto una sorta Di marchio sul ventre Di uno di loro Guarda con i tuoi occhi E dimmi se lo trovi Anche tu Ok Allora Obiettivi Porta 4 Ebiori a livello 4 Già fatto Porta 4 Pterosauri a livello 40 Già fatto Posiziona un dinosauro Che si è appena Schiuso Vabbè ma l'ho fatto apposta Però Allora Io non so Se c'ho robina Al 40 Probabilmente Il colobrigo Potrebbe essere Un'opzione Perché non so Se ce l'ho al 40 Ce lo dovrei avere però Perché è stata inviata Nel deposito Dei risorse Non ho capito Ah perché il colobrigo Giustamente È in missione Di recupero Mi sa E quindi Me l'ha appoggiato Lì Probabilmente Allora Appoggio Il colobrigo Qui A quanto ce l'ho Bassissimo Ehm Sinceramente Pensavo di avere Robina un po' Più alta E invece No Trana sta cosa Però che non c'ho Roba a 40 Aspettate un attimo Secondo me Se cerco qui In mezzo Ai volanti Qualcosa che c'è Quasi arrivato C'è Ma ce l'ho Uno E nulla I crash Continuano Come sempre Allora Ritorniamo sulle missioni Perché voglio leggere Bene Perché mi pare Una cosa strana Allora Posiziona Porta Quattro pterosauro A livello 40 Quindi devo portare Un altro pterosauro A livello 40 Fammi vedere Qual è quello più vicino Che c'ho Se ce la facciamo A vederlo Senza che crasha Ehm Magari qualcosa di piccolo Il pelecaniptez E L'ibrido Questo sta Spasso Questo è Grosso Potrei portarmi Sullo scafognato Perché effettivamente Ce l'ho Per farlo al 40 Involontariamente Quindi O evolviamo Alla grande Perché probabilmente Già lo stavo facendo Al 40 Non so perché Stavo facendo Lo scafognato al 40 Forse per qualche Altra missione Probabile E poi l'ho abbandonato Lì Nel nulla Poverino Mi quasi dispiace Però adesso ci servi Quindi ti evolviamo Vale Evoluzione incompleta A te pare Ok Vai Che ce la possiamo fare Mazza però Quanto ci mette Per fare un'evoluzione Su E cattiveria Ci siamo Oh Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ragazzi Così possiamo farlo salire E farlo fondere Con l'ultimo Facciamo un bel 40 Nuovo Che magari è anche utile In battaglia Magari Ci servirebbe Qualcosa di nuovo Di volante Che ci manca sempre Sinceramente Ok Ecco qua Ci fa spende tutti I dinodollari Della storia Comunque c'ho pochi Ponti gv Devo fare qualche Missione Oppure devo fare qualche Change Perché se no Non posso prendere Anche le bustine oro pure Che mi avete consigliato Di prendere Per alcuni dinosauri Importanti Che sono forti Come quelli che già ho Però sono più facili Da trovare Ok Scafognato E vai Che diventa Livello 40 De pian sacco De ciccia So Fini la ciccia Livello massimo 1752 548 Ok Questo è il suo livello massimo Niente di più Niente di meno Mi vado a prendere Un po' di ciccia Mi ho consumata tantissima Mi sembra Mi tocca far ma Ok Missione fatta DNA E esperienza Ecco Ne hai trovato uno Non sono sicuro Che abbia esattamente La stessa forma Di quello che ho visto prima Ma sembra una sorta Di codice a barre Forse un modo Per trasmettere informazioni E perché proprio questo dinosauro Vieni Credo di aver trovato Le nostre risposte Ok Vi ho un po' A quest'ora il tuo contratto Avrebbe già dovuto mandare Il pacco Contatto Scusatevi Dov'è? È tutto il giorno Che aspettiamo Sta arrivando La tecnologia dei droni Non è così avanzata Da effettuare consegne Porta a porta Continua a sorvegliare La piattaforma di atterraggio Ok Possibile che Lowery non intercetti il drone Lui vede tutto Dal salto controllo Dalla sala controllo A quello ci penso io Va bene Missione già fatta Possieri 4 creature acquatrici Di livello 20 4 creature Di livello 20 Che già sono avanti Allora Monete Esperienza Chiare al contatto Con cui abbiamo parlato Al telefono Aveva la voce Talmente modificata E filtrata Che mi sembrava Di parlare con un robot È portavoce Di una fazione di Washington Che si fa a chiamare La coalizione E ti assicura Il reale al 100% E in passato Ho fatto il consulente Per loro Chi sono? Un partito politico Non proprio Alcuni di loro Sono militari veterani Altri sono ex membri Della CIA Diciamo solo che hanno a cuore Gli interessi dell'America I membri della coalizione Rivelano la loro identità Solo se è assolutamente necessario E credimi Meno sai Meglio è per tutti Perfetto Vediamo un po' se pure Questa missione va avanti Signor Masdrani C'è una cosa che dovresti mostrare Oh Zara Come stai? Questo branch è fantastico Sembrano tutti contenti Non ce l'avrei mai fatta Senza di te Grazie signore Avete sentito le notizie di oggi Su internet Non si parla d'altro Gioessi Ward in crisi Blandisce gli ospiti Con qualche bioscina Aia Aia Compra e posiziona Un osservatorio Orizzonte O dell'orizzonte Apri un pacchetto di carte Ok Abbastanza easy da fare Questo uno Già ce l'avevamo Quindi forse Già me lo fa Una parte della missione O forse mi chiede Proprio di comprarla La maledetta Potrebbe essere Me lo chiede proprio di comprarla Quindi compriamo Ok A parte che questa Non l'avevo messa Perché era da accelerare Perfetto Quindi me l'ha contata E adesso apri un pacchetto di carte Eh Un pacchetto di carte Mi guardo la pubblicità E mi apro il pacchetto Questo misterioso Ecco la nostra bustina Misteriosa Andiamola ad aprire Così ci da Il continuo della missione Perfetto Ci piace Punti gv a gratis Che li voglio Perché ce ne abbiamo Veramente pochi Fine missione Grazie Ti va avanti Blandisce con le brioscine Ma com'è possibile Non lo so signore Immagino che Kowalski Abbia scritto l'articolo in anticipo Te l'abbè pubblicato Appena il wifi E è tornato in funzione Aia So come funziona il wifi Zara intendevo dire Come hai potuto lasciare Che accadesse È tutta colpa di Zara Loveri Hai visto il titolo dei giornali Credo che ormai Li abbia visto tutto il mondo Che cosa possiamo fare Quello dobbiamo fare È anticipare l'onda Prima che la Kowalski Intacchi permanentemente La nostra reputazione Mi serve il tuo aiuto Per diventare virale Su Jurassic World Ok Posizione una creatura leggendare Che si è appena schiusa Assolutamente no Quindi questa dovremmo aspettare Per farla E raccoglita un osservatorio Sull'orizzonte Questa è facilissima Già fattibile Perché se abbiamo messo A raccogliere Una cosa dell'orizzonte Già si può prendere Allora Direi che possiamo fare Una bella cosa Livello battaglia Ci li andiamo a provare Livello battaglia 80 e 81 Dovremmo avere Solo l'80 Perché giustamente Dobbiamo finire prima l'80 E ci danno comunque Bella robina Di qua DNA E qua lo zalmox S Proviamo a vedere Se riusciamo a portarli a casa Andiamo belli aggressivi Con il nostro Indominus Rex Gen 2 Ok E giustamente Riasciamo a shottarlo Per poco Per cento di attacco Perfetto Poi vediamo un po' Cosa ci capita C'era Zinosauro Che poi sarebbe Quello che vogliamo fare noi Probabilmente Molto interessante E' un carnivoro Quindi penso che Metterà da parte Non attaccherà Noi mettiamo da parte Immediatamente 2 Perfetto A difeso Ottima situazione Non penso che Continuerà ad attaccare Perché è bello Iozzo Invece attacca Il maledetto Quindi Ci elimina tutto E noi andiamo a fare Una bella parte Aggressiva Ok Cerchiamo di buttarlo Giù Immediatamente Metto 3 Perché penso che Difenda Invece non difende Ho contato male Probabilmente Nessun problema Vediamo lo Yudonte Se prende un più Una avevo contato bene No avevo contato male Ma sto Tontosauro Tocca a me Giustamente può fare nulla Gli tiro un 4 Addosso Anzi un 6 E ci portiamo a casa Yudonte Ciao E vediamo un po' Questo lì è la battaglia E la nuova creatura Ricompensa Sbloccata Livello battaglia 80 fatto Zalmoxes Disponibile Perfetto Eccolo qui Lo Zalmoxes Un ottimo Dinosauro Probabilmente 1341 1257 Quindi anche Molto equilibrato Lo mettiamo immediatamente A schiudere Ci mette 6 giorni Come 3 quarti Delle cose che mettiamo a fare Leviamo Owen Perché ha rotto 3 quarti Pure lui E direi che possiamo Andare avanti Con le missioni Battaglia Facciamo anche La livello 81 Quindi ci prendiamo Questo 7000 Di DNA E si va In gioco Pterodattilo Giustamente Non è il massimo Di quello che posso dare Ok Giustamente Devo aumentare Sti benedetti Dinosauri Ma poi Mi devo mettere De punta E farma un po' Fa un change 1653 Non attacca Non attacca 3 Non attacca 3 Non attaccherà assolutamente Impossibile Che attacchi Facciamo un 3 Da parte Vediamo un po' Se attacca 3 Se ci prova Se spreca Non attacca 3 Pensavo bene Per fortuna Allora Perfetto Allora E adesso Ci manca E adesso ci manca Questo Erlifosauro Che c'ha 8 Non attacca Il pazzoide Non so perché Vabbè Lo buttiamo giù Ciao Ne proprio Ha un po' Traccheggiato Questo bot Non ha retto Va bene Portato a casa E i nostri DNA Eccoli qua Ricompensa Livello battaglia 81 Niente male Visto che ne avevo usati parecchi Era importante Oddio c'è anche la lega pvp Da andare a fare Intanto mi vedo gli eventi Che ci sono Probabilmente non li faremo Perché andiamo a fare Il livello boss E siamo andati parecchio Avanti nella storia Vai Andiamo contro boss Eventi mondiali Contro la cupara E penso neanche Di essere a livello Per la cupara 81 Sinceramente Penso ecco Con questo bellissimo boss Potrò dare poco supporto A cupara 81 È la prima volta Che lo vedo La tartarugona Mi piace tantissimo Ma forse l'ho già vista Lo sapete Potrei averla già vista Ha tantissima vita E pochissimo attacco Perché giustamente È depotenziata Ok Attacca secca Cattiva La cupara Ok Direi che possiamo Anche tirargli giù La prima quantità di vita Ok Buttata giù Alla prima Il problema Adesso Quello sarà enorme Raddoppierà l'attacco Raddoppierà la vita Raddoppierà no Aumenterà la vita Che sarà un problema Ok Sembra che ha messo da parte Potrei anche azzardare Un attacco importante Benissimo Perché tanto Dovemmo pensare A farla salire Di livello più possibile Anche a costo Di perdere unità Ci metteremo Per perdere unità Perché come vedete Non è così potente Poi si difende parecchio Quindi pure gli attacchi Che mette da parte Sono abbastanza pochi E però sale di livello E diventa una belva Ok Cattivissimo A cupara 81 Che ci verrà addosso Di cattiveria 6 attacchi Uh Ci ha eliminato L'ortogone gigante A secco Ok Ho avuto paura Di un crash Questo gioco Ci impegna sempre Allora Abbiamo un po' più di vita In questo caso Forse riesco pure A farla di salire Di livello Benissimo A cupara 81 Vediamo un po' Quanto sale Livello 4 208 di attacco Comincia ad essere pericolosa 5677 Io direi Che potrei anche Azzardarmi Visto che mette da parte Ha un 2-2 Ok Giusto per reggere colpi Per non rischiare Di perdere Eh A parte che in 6 6 attacchi Sono veramente tanti Raga Ok Due parati Ma ha smezzato Però adesso posso farla salire Di un altro livellino Probabilmente Vediamo un po' Se ce la facciamo Sembra di sì E mettiamo anche 2 da parte Probabilmente l'ortoganto Se ci morirà Però abbiamo portato Da livello 5 La benedetta tartaruga Boss A cupara 81 6113 di vita Gigantesca Oh Quanta vita c'è rimasta A sto punto Azzardiamo Azzardiamo Al massimo Al massimo Raga Vai Intanto i lag Stranissimi Che appaiono Con Jurassic World The Game Ok livello 6 Giusto? Sì Boss livello 6 283 di attacco 6500 5500 5500 Di vita Gigantesca Però ancora Ne ho 3 Lo stiamo facendo salire parecchio Eh Questo qui è un po' bassino Di ortocantus Direi che gli tiriamo il colpo di grazia Tiriamo tutto Vai Cattiveria Non è bastato Assolutamente C'ha troppa vita L'ortocantus È basso il mio ortocantus Sinceramente Va bene Penso che sia morto l'ortocantus C'era poca vita L'abbiamo portato Al livello 6 Che possiamo anche alzarla Off camera Mi raccomando 32000 Danni fatti Usa 5 creature leggendari Ne abbiamo usate 3 Vai che prendiamo un po' di DNA Che ci serve Come il pane Perfetto E ci piace Alquanto Guardate quanto bel DNA Per noi Sbam Quindi devo dire Che non me la sono cavata malissimo Regà Guardate quanto DNA Ci siamo portati a casa Top Veramente top Secondo me un'altra sfidina Me la farei Non adesso Ma magari off camera Così proseguiamo Allora ragazzi Io direi che questa era la puntata Di oggi Una puntata molto story Probabilmente la prossima Sarà col nuovo pass E quindi anche con lo shop Esoso Del nuovo pass Allarme Boss Portato a casa In maniera egregia Due livelli Appunto Quelli lì Con il livello 80 e 81 Portati a casa Niente male Arriviamo a 1000 like Condividere il video Iscrivetevi al canale Se no E lascia l'hashtag Jurassic World Day Game Qua sotto nei momenti Vi ricevo un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video